pace le signore a tutti buona giornata 28 gennaio 7 del mattino leggiamo nel vangelo di matteo nel capitolo 6 leggeremo diversi molto noti il verso 33 e il verso 34 cercate prima il regno di dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più non siate dunque in ansia per il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno l'esortazione di gesù è molto chiara evidente ed è quella di cercare prima di tutto innanzitutto il regno e la giustizia di dio perché perché tutte queste cose vi saranno date in più quali sono queste cose gesù aveva parlato delle preoccupazioni e aveva esortato i suoi uditori a non essere in ansia per la vita di cosa avrebbero mangiato di cosa avrebbero bevuto né per il corpo di come si sarebbero vestiti perché come dio provvedeva agli uccelli del cielo ai gigli delle valli così egli avrebbe provveduto anche a coloro che lo cercano e lo amano e dunque gli esorta a porre delle priorità nella loro vita e ammettere al primo posto il regno di dio e la sua giustizia e promette che se faranno questi egli non avrebbe mancato di provvedere il necessario per la loro vita cioè di che mangiare e di che vestire e aveva anche ricordato all'inizio che il la vita è più del nutrimento e il corpo vale molto più del vestito e quindi l'esortazione è valida ancora per noi oggi dobbiamo porre delle priorità nella nostra vita e in una società che è caratterizzata dall'affannosa ricerca dei beni materiali questo verso credo che sia quanto mai importante che sia oggetto della nostra riflessione quotidiana perché ci possiamo lasciare trascinare dalla foga del materialismo della ricerca del benessere a tutti i costi ora avere dei beni avere di che mangiare avere che vestire occuparsi di queste cose non è in se stesso sbagliato e quando queste cose diventano la nostra priorità che inevitabilmente ci troviamo a perdere la cosa più importante che è la comunione con dio e l'approvazione di dio stesso bisogna lavorare certo che bisogna lavorare bisogna impegnarsi a provvedere alla necessità della propria famiglia certo che bisogna farlo anzi la parola di dio incoraggia in tal senso ma ciò non deve essere la priorità la priorità deve rimanere cercare il regno di dio e la sua giustizia come disse qualcuno non dobbiamo vivere per lavorare ma dobbiamo lavorare per vivere come gesù ha dichiarato non possiamo amare madre padre fratelli figli campi più di lui perché se facciamo questo noi non siamo più degni di lui e non possiamo più essere chiamati suoi discepoli dobbiamo prima cercare il regno di dio e la sua giustizia dobbiamo prima essere certi che la nostra vita è approvata da parte del signore e questo richiede due passi di cui spesso parliamo in queste breve riflessioni mattutini innanzitutto la nuova nascita e cioè che noi abbiamo creduto nel signore gesù cristo e abbiamo permesso all'opera dello spirito santo di trasformare la nostra vita cambiando di riflesso i nostri propositi i nostri pensieri anche le nostre priorità sì questa nuova nascita che tra origine dalla confessione del peccato dall'invocazione del perdono di dio dal pentimento e dal ravvedimento questa nuova nascita il punto di partenza senza di essa non si riuscirà mai a mettere il regno di dio al primo posto si continueranno a cercare le altre cose poi se ci sarà un po di spazio magari si potrà pensare pure al futuro dell'anima ma noi non vogliamo essere stolti come quel ricco della parabola di gesù che aveva di tutto su questa terra ma che non aveva pensato di essere ricco in vista di dio sì grazie a dio se il signore provvede macchine se provvede case se provvede vestiti grazie a dio per tutte queste cose ma noi non viviamo per questo noi viviamo e camminiamo in vista della gerusalemme celeste come dirà l'apostolo paolo nello scrivere ai colossesi se siete stati risuscitati con cristo cercate le cose di lassù dove cristo è seduto alla destra di dio aspirate alle cose di lassù e non a quelle che sono su questa terra sì vogliamo seguire questo esempio vogliamo cercare innanzitutto il regno di dio e la sua giustizia e poi abbiamo una certezza il dio non ci farà mancare del necessario come dice il salmista sono stato giovane sono diventato vecchio il giusto che mendica il pane non l'ho visto dio saprà provvedere il necessario e anche se ci dovessimo trovare in momenti di distretta noi non saremo disperati perché sappiamo in che abbiamo creduto sappiamo che il signore è quello che saprà stendere la sua mano e mandare la manna dal cielo come faceva con israele nel deserto saprà provvedere e allora come abbiamo letto nel verso 34 via l'ansia dalla nostra vita l'ansia per il domani intendo via via perché sappiamo che il signore si manifesterà con la sua gloria anche domani e oggi oggi vogliamo cercare il regno di dio la sua giustizia e vogliamo camminare nella consapevolezza che seppur dobbiamo programmare magari il domani mi riferisco al lavoro alle attività che dovremmo svolgere in famiglia in ogni caso questo non deve diventare un'ansia per la nostra vita non ci deve portare a cadere nella paura e nello sconforto perché il signore è quello che ci aiuterà a portare a compimento ogni cosa viviamolo oggi innanzitutto perché poi il domani si preoccuperà di se stesso e viviamolo mettendo il signore al primo posto dandogli la priorità nella nostra vita e quando verrà l'occasione o la tentazione di dare spazio ad altro e di rubare al signore quel tempo che a lui abbiamo pensato di consacrare scacciamola via questa tentazione e diciamo con forza a noi stessi e alla tentazione il signore viene prima a lui voglio dare la priorità nella mia vita coraggio fratelli sorelle amici cari prendiamo questo impegno e la benedizione di Dio sarà sulla nostra vita che Dio ci accompagni ancora oggi se Dio vuole domani mattina ci incontreremo ancora una volta per leggere e meditare la parola di Dio pace del signore a tutti grazie 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 grazie